La donna ha difficoltà a fare gli scongiuri, solitamente la donna quando fa gli scongiuri si agita un poco così, gli uomini invece mettono le mani così, anche perché se scendono dal palazzo, dal condominio, per non far vedere che fanno un gesto in bocca di mano, fanno così, dice io c'ho un piccolo, quindi bisogna stare, allora però è utile anche col bicchiere vuote, con gesto, perché basta il gesto, chi va male a questa casa, ho ripetuto prima, chi va male a questa casa, prima c'ho trasta, quando è entrato salutato, quando uscite fatevi i cazzi vostri, la salute di tutti quanti. Non lo posso fare! Quando vedo una casa, tutto non è aga, dico che la mia faccia, ma la faccia non voglio fare, sono a tirato, sempre in mano mi dico, non è rispetto il caldo, e ora faccio la locale, tra l'altro mio, non per l'amorso qui dentro di me, io, 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 nè, che davanti gloria solle, invece che vanno bene, lui, io, 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 pace in borneo, io, 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 boa la 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 ma c'è la parola, come a scordare i guai, e li cambiata, ma poi c'è la buccia e ti raccambai. Vino, vino, e coro qua, giù, vino, vino, e ti raccambai, e coro, e li cambiata, mi baci, mi baci, mi baci, mi baci, mi baci, e ti ricordi quando mi piaci, e coro, e ne devi sopra. luardo sto fumando me, vcom le penaste, ci raccambai, i tuoi evo, ko mo, ku moba, guai, e pelinava, t Tennehei, te vaticambai!